Oggi voglio farvi vedere come realizzare le crepe perfette da farcire il dolce o il salate perfette per la merenda e per un pranzo. Vediamole insieme! In una città la versate le uova intere, il latte e mescolate con una frusta. Aggiungete la farina, continuate a mescolare ed infine unite il burro fuso intiepetito, mescolate con una frusta e poi mixate con un mixare di immersione in modo da togliere tutti i crumi. Chiudete con la pellicola, fate riposare in frigo per 30 minuti. La pastella diventerà molto liscia. Fate scaldare una patella antiderente al fuoco medio, mettete una nocciola di burro, versate un mestolo di impasto e lo tirate alla patella in modo da ricoprire tutto quanto il fondo uniformemente. Adesso fate cuocere un minuto e mezzo o due minuti per lato. Come si alza il bordo potete rigirare dall'altro lato, cuocere anche quello e alla fine togliete dalla patella e tenete impilata una sull'altra. E adesso avrete una base neutra che potrete farcire come preferite. Con farciture sia dolci che salate. Io in questo caso ho utilizzato confetture di albicocche e nutella, le volete chiudere a rotolandole oppure a sacchetto. Non vi resta che gustarle, sono davvero eccezionali.